Ci tenevo anzitutto a salutare le sale operative e a ringraziarvi perché siete il presidio H24 della nostra presenza e del nostro servizio che diamo alla cittadinanza. Un servizio molto importante, le mie non sono parole di circostanza perché poi sono le sale operative un po' il pronto soccorso degli ospedali. Il cittadino quando si rivolge a noi è in base alla risposta che siamo in grado di dare nell'immediatezza, in quel momento in cui ha avuto bisogno, che poi esprime il giudizio nei nostri confronti e se siamo stati efficienti in quel momento in cui ha avuto bisogno il giudizio sarà positivo e magari lo sarà per sempre. Sulla risposta anche le parole dell'operatore che risponde alla telefonata, la tempestività di organizzare l'intervento in quel momento, nel momento in cui il cittadino ha bisogno potremmo essere in grado di dare la risposta che efficiente possibile. Saluto ancora con grande affetto tutte le sale operative, peraltro io ho iniziato la mia carriera presso la sala operativa come funzionario delle volanti qui a Napoli, quindi è stato diciamo il luogo dove ho imparato il mestiere facendo un periodo delle volanti sia come funzionario di turno in sala operativa sia come funzionario di turno sulle volanti per strada. Vi saluto tutti quanti con grande affetto, vi ringrazio per il lavoro che state facendo e che farete sicuramente l'anno prossimo per il vostro presidio H24. Vi mando un abbraccio a tutti e un augurio a voi e a tutte le famiglie. Grazie, auguri, buon anno e buon lavoro.